I reati ambientali sono sempre all'attenzione delle forze dell'ordine che sistematicamente effettuano controlli in modo che aziende, anche maleducati, non tengano comportamenti che possano essere dannosi sia per l'ambiente che per le persone. Durante uno di questi, i finanzieri del gruppo di Lamezza Terme, insieme ai militari del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Vibo Valencia Marina, hanno ispezionato diverse aziende operanti nell'Interlanda Lametino specializzate nella demolizione di autoveicoli e commercio di pezzi di ricambio usati di veicoli e motori, nelle riparazioni meccaniche di carrozzeria di autoveicoli e nel lavaggio di veicoli commerciali, consentendo di accertare un'illecita gestione dei rifiuti pericolosi creata ad hoc per incrementare i profitti attraverso il fraudolento contenimento dei costi di smaltimento, realizzando delle vere e proprie discariche abusive a cielo aperto dove venivano abbandonati enormi quantità di rifiuti speciali pericolosi, con l'inevitabile compromissione del suolo e dell'acqua. Tali rifiuti, senza alcuna edonea protezione, erano esposti agli agenti atmosferici, con la conseguenza che il percolato veniva assorbito direttamente dal terreno, inquinando le diverse falde acquifere presenti. Da qui la denuncia degli amministratori delle società e delle imprese individuali controllate per reati in materia ambientale, nonché per violazioni della normativa urbanistica, oltre che per l'impiego di diversi lavoratori in nero, con violazione di natura previdenziale e fiscale. Si è preceduto quindi il sequestro di un impianto di lavaggio, di un campanone industriale, un'autocarrozzeria abusiva di tre aree adibite a discariche abusive della superficie complessiva di oltre 12 mila metri quadrati e del valore complessivo di circa 4 milioni di euro.